Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, terzo episodio di questo bellissimo giochino Fall Guys che ancora non ci ha fatto sclerare più di tanto, anche se ci sono rimasto male, soprattutto nel primo episodio che siamo stati eliminati terribilmente male Comunque ragazzoli, terzo episodio, spero che questa sera vi piaccia, io mi sto divertendo a giocarlo Sono riuscito a sistemare il discorso dei progressi, infatti abbiamo 136 punti su 160, siamo leggermente saliti e siamo quasi a livello 2 Allora signori miei, prima di partire col video e con lo sclero, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941 sia su Instagram che su Facebook, di più su Instagram, anche se per ora non sto pubblicando tanto Comunque, e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite Paypal, trovate comunque i link per fare tutto quello che vi ho appena detto in descrizione al video Detto questo ragazzoli, con il nostro ovetto Kinder, con la nostra sorpresa Kinder, siamo pronti a partire per il video Ok, ci siamo signori miei, stiamo popolando la stanza di giocatori, siamo a 57 su 60, dovremmo arrivare tra un poco 60 su 60 e capire su quale livello andremo a giocare Ragazzoli, che dirvi? Non lo so, speriamo che questa volta ci vada bene, l'altra volta se non sbaglio, l'ultimo video e l'altra volta se non sbaglio siamo arrivati forse anche al terzo livello Uh, ok, ok, quello delle eliche, va bene, va bene, questo lo sappiamo fare, raga, ce la posso fare, ce la posso fare, se non mi emoziono nella parte finale, raga, ce la possiamo fare Se non mi emoziono nella parte finale, ce la possiamo fare Navigate to obstacle and race to the finish line Ce la possiamo fare, raga, concentrati, alzate le mani tutti quanti verso l'alto in questo momento come se mi volesse mandare il vostro potere Io sono Goku, ecco, vedete, anche il mio Mino ha alzato le mani, siamo pronti, raga, ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare, ecco, pronti con gente, ne passano in 42 Ce la possiamo fare, raga, ci sono gli sconti all'ipermercato, guardate come corrono tutti per accapararsi gli sconti, salta! So saltato proprio male, mamma mia che carambola, però, zitti, 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 che mi è finita troppo bene Mi è finita troppo bene, di russo, raga, se questo scemo, uh, raga, troppo di russo mi è finita Mi è finita troppo di russo, vai con gli sconti, vai con gli sconti, zio Ho preso una palettata terribe, dai, e dai, altra palettata, ancora una palettata per noi, perfetto Evitiamo di essere buttati fuori, cortesemente, dai, 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 entra, 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 grande Questa botta, botta di 23, signori miei, dai che stiamo in corsa, dai che stiamo in corsa, dai che stiamo in corsa Bello il passaggio fortunato, dai, 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 proviamo a passare da sopra, raga, proviamo a passare da sopra Calma, calma, timing, timing, ci ha spinto quell'alumino dietro di noi, ci ha dato un colpo di forza Dai, 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 no, va bene, va bene, calma, 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 calma No, sono saltato nel momento sbagliato, brutto zoticone che non sono altro, dai, tic tac, dai tic tac, dai che ce la fai Dai che ce la fai, tic tac, calma, ti calma, ti calma, ti salta, salta, bravo, tic tac Mamma mia, la nostra tic tac, che brava, dai, 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 timing giusto, no, ma sei tutto stupido, sei tutto stupido No, ma dai, ma devi saltare, no, già sono passati in dieci, raga Ci stiamo, no, ma non salta, ma perché la nostra tic tac non salta, raga, perché la nostra tic tac non salta Dai così, dai, 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 calma, calma, bravo, mamma mia, che siamo, che siamo intelligenti Mamma Avevo appena detto che siamo intelligenti, avevo appena detto che siamo intelligenti e abbiamo fatto una cavolata terribile Calma, calma, grande con il timing, dai, dai, salta giusto, salta giusto No, vabbè, no, vabbè, dai, raga, ma è un complotto, è un complotto per non farmi passare il tour Eh, vabbè, dai, dai, vabbè, più lontano mi poteva sparare, dai, 33 su 42, ce la posso ancora fare, ce la posso ancora fare Credo in me stesso, credo in me stesso e nelle tic tac, credo in me stesso e nelle tic tac Dai, 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 ce la facciamo, 40, 40, zitti, 41 No, 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 non ci sto, raga, dai, così, no, però Ma porca di una paletta ambriaca, dai No, così non ci sto, raga Così non ci sto, così non ci sto Così non ci sto, dai No, no, non è giusto, non è giusto No, 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 non ci sto così No, 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 non è giusto Non è giusto, non è giusto Dai, ritorniamo in campo, raga Ok, ragazzi, il livello, ci riproviamo Il livello delle porte, ok, qui ci sono le porte da sfondare Stiamo calmi, ma andiamo avanti gli altri Senza creare troppi intasamenti E cerchiamo di arrivare il più velocemente possibile al traguardo Dobbiamo un attimo, scusate, mi era salito un attimo la polenta balsugana Quindi ho avuto un attimo di ingorgo nella gola Però ci siamo, per caso, per noi non abbiamo partito Ecco, giustamente, ora partiamo in terza fila La nostra tic tac carcerata parte in terza fila Ma subito ce l'ho scato sulla testa In accelerazione, prende l'ascia del lupo Grande, ok, riusciamo a passare la prima porta La prima porta l'abbiamo passata Continuiamo qui, continuiamo di qui Dai, 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 no, mamma, che facciata che abbiamo dato Porca misera Abbiamo scelto la strada sbagliata questa volta C'è qualcuno che ha scelto la strada giusta? Tutti stanno a sbagliastrada C'è qualcuno che ha beccato la porta giusta? Sì, di qua Io non so più chi sono Dove sono? La tic tac La tic tac carcerata Dai, 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 segui il bustle Segui il bustle Dai così, dai, così, dai, così, dai, così, dai, così, dai, così Salta, grande No, 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 non ti fa schiacciare Dai, 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 dai Di qua, di qua, di qua, di qua Dai, che ci sono gli sconti Dai, che ci sono gli sconti Salta, che ci sono gli sconti Brutta, tic tac Passano in 45, raga Siamo messi male, siamo messi male Ora arriveranno tutti Mamma mia, che caterva di persone Dai, 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 dai Siamo in corsa, siamo in corsa Siamo in corsa Ce lo possiamo fare, ce lo possiamo fare Salto, passate il turno Dai, dai, dai Mamma mia, che gal... Ti dà una carica a sto gioco? Che spettacolare, raga Io non so voi, ma io mi diverto troppo Dai, dai, dai Dobbiamo portarlo in live, raga Qualche sera di queste lo portiamo in live Voglio giocare con voi Se qualcuno ce l'ha Possiamo giocare assieme, raga Se no, voglio giocare in compagnia vostra Qualche sera di queste lo portiamo in live Allora, la prossima settimana Vediamo qual è il prossimo livello Attenzione Attenzione Secondo livello Secondo livello Dai, 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 dai Qualcosa di simpatico Qualcosa di simpatico è che so fare, soprattutto Ti prego, fammi fare qualcosa che so fare Dai, 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 dai Ok Hit Parade Ok, ok Stiamo calmi Hit Parade l'abbiamo fatto l'altra volta L'altra volta ce l'abbiamo fatto Hit Parade, raga Lo possiamo fare Lo possiamo fare Ce la posso fare Io credo in me stesso Devo ripetermelo Io credo in me stesso Io credo in me stesso Ce la posso fare Che posizione partiamo? Che posizione partiamo? Primo Porca miseria Quando partiamo primi non va mai bene Signori miei Quando partiamo in pole position non va mai bene Però ci crediamo Crediamo in noi stessi Dai, 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 dai Dai, dai, dai Partiamo per prima Abbiamo la strada libera Abbiamo Ma porca miseria Dico io Avevamo la strada libera Avevamo Avevamo la strada libera Allora, io questo non capisco come funzionano Signori miei Bisogna spingerli E cercare di passare E spingere E cercare di passare Ok Spingi e passa Perfetto Spingi e passa Perfetto Spingi e passa Perfetto Aspettiamo che si aprono le porte Dai, dai, dai Non ti fare schiacciare dalla Dalla massa Iiii Fermo Occhio Occhio, 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 occhio Occhio, occhio, occhio Grande Agli abbiamo preso una facciata terribile Ma riusciamo a rialzarsi Dai, 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 dai Buono così raga Siamo in corsa Siamo in corsa Occhio allo slime Occhio allo slime Occhio allo slime Dribla, dribla come Cristiano Ronaldo Dribla come Cristiano Ronaldo Mamma mia che scivoloso Dai, 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 dai Porca miseria Sono arrivati tutti Ce la facciamo, ce la facciamo È andata Qualificati anche a questo turno raga Saliamo Secondo round superato Siamo dei grandi Terzo, terzo giro Terzo giro Mi sto a gasare raga Mi sto a gasare Dai, 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 dai Qual è il prossimo? Dammi il prossimo Che lo vinco pure Dammi il prossimo Che lo vinco pure Dai, 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 dai C'ho, c'ho, c'ho L'adrenalina a mille raga Spettacolo, spettacolo 33 qualificati Qual è il prossimo livello? Dai Respiro profondo Respiro profondo Mi raccomando raga Alzate le braccia Datemi la vostra forza Come Goku Sono il vostro Goku Signori miei Sono il vostro Goku Io non so Quale possa essere Il prossimo livello Perfect match Questo non so Cosa sia Signore Memories Dei con On the list La vedo brutta Raga La vedo brutta Mi sa che Compaiono delle immagini Match Dei con On the screen Ok Compaiono Io dove sono? Io non so dove sono Ok Quindi compariranno Delle immagini E noi dobbiamo Qui Qui No no Qui Che devo fare? Ok Non so cosa devo fare L'arancia Era qui l'arancia L'arancia me lo ricordo Ok L'arancia era qui Ok Perfetto Ok Chi rimane nel quadrato Sbagliato Sbagliato cade Ok Quindi Ok Ciliegia Ok Siamo calmi Ciliegia uva E qua Ciliegia uva qua Arancia e ciliegia pure là Ok Ce li ho 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 Ciliegia uva Ciliegia arancia Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Arancia Qua Era qua l'arancia Era qua l'arancia Era qua l'arancia Era qua l'arancia Grande Bello così Bello così Bello così Uva Uva Arancia Uva Uva Arancia Ciliegia Ok Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Non mi ricordo Porca miseria Allora Uva Uva Arancia Ciliegia Ok Uva Uva Arancia Ciliegia Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? L'uva per forza La banana Non l'ho mai vista la banana Raga Seguo la massa Seguo la massa Abbiamo Indovinato Settacolo Cosa vuoi sapere ora Qualificato Mamma Raga Raga Video del secolo Raga Video del secolo Video del secolo Siamo arrivati al quarto round Da 29 Sono stati eliminati In 20 Rimaniamo in 25 Dai 3 soli Ne ha eliminati Ma porca Di una paletta Ambriaca Dai Ma non si fa così Porca miseria Ok Quarto match Quarto round Signori miei Quarto round Diciamo che è l'ultimo Quello della banana Abbiamo avuto Rock and roll Walk together To push your ball To the finish line Before the other team Ok Dobbiamo portare la palla In rete Praticamente prima degli altri team Ok Questo penso che sarà Difficilissimo Rock and roll Perfetto Abbiamo finito La nostra giocata Ragazzi Allora Siamo una squadra gialla Ce la possiamo fare Dai 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 Carichi carichi Dai spingi la palla Spingi 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 Bello così Dai 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 Veloce 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 Dai 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 Spingi 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 Dai 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 Spingi 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 Siamo la squadra più indietro di tutte Ottimo così Bella così Dai 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 Spingi 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 Stiamo Dai 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 Perché io sono davanti alla palla Ok, va bene, va bene, va bene, vai, vai, vai Perché io sono davanti la palla? Dai, dai, 52 No, 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 siamo gli ultimi Siamo gli ultimi Dai, 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 dai Che gli ultimi saranno i primi Dai, che gli ultimi saranno i primi Corri con sta palla Dove stiamo andando? Perché state andando di là? No, c'era un blu che c'ha No, no, raga Il blu C'è quel blu che ci sta andando No, devi levarti dalle scatole, zio Fatti la tua partita Dico, fatti No, siamo stati terminati Dai, dai, ma avevamo gli impostori Vi sono venuti un blu e un rosso A romperci le scatole Ma perché? Ma porca miseria Eh, va bene, ragazzoli Siamo arrivati al quarto round, però Tanta roba Sono rimasti in 17 Eh, va bene, classi Yes, usciamo, usciamo Abbandoniamo Siamo riusciti a superare Il primo round Il secondo round Che contento la nostra tic tac Il terzo round E il quarto round ci hanno eliminato Siamo arrivati al livello successivo 55 monete viola Ottimo, va bene, va bene Possiamo sbloccare il prossimo Un nuovo colore Va bene Detto questo, adesso io vi ringrazio Vi ho guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo video Bella raga Ciao Ciao